a posto buon pomeriggio benvenuti a questa edizione speciale della piazza di venerdì eh volutamente speciale non solo per il giorno ma perché abbiamo un un amico particolarmente gradito che torna a farci compagnia qui in piazza e Don Ermis Segatti eh che anima il nostro percorso di incontri eh finalizzato a farci conoscere e comprendere un po' meglio le altre religioni in modo da imparare a porci nei confronti dell'altro in maniera più se vogliamo inclusiva e eh e rispettosa la volta scorsa ricorderete Don Ermis ci ha portato nel mondo nella cultura e nella religione dei cristiano ortodossi oggi ci allontaniamo ancora di più eh guardiamo verso est andiamo in oriente e parleremo di Cina eh oggi Don Ermis ci racconterà quanto è vicina e se è vicina questa Cina eh raccontandoci il rapporto fra la Cina e noi quindi molto volentieri benvenuto Don Ermis grazie a lei la parola sì io ho la parola però in questo momento e non mi risulta che sia collegata noi vediamo il suo schermo condivisione riuscite come no certamente allora io comincio a mettervi sullo sfondo questa cartina della Cina che subito ci introduce su ciò che dicevo io prima scherzando cioè che la Cina è un mondo paragonabile per complessità a quando noi diciamo Europa e intendiamo la pluralità degli stati che la compongono naturalmente fatte le debite proporzioni tuttavia si deve dire che nella Cina esistono configurazioni regionali che vengono chiamate col termine interno di province le quali hanno caratteristiche fortemente segnate dalla storia e qui anticipo già una valutazione di carattere generale che ci introduce alla Cina vale a dire che la Cina ha una fortissima tradizione storiografica cioè la Cina sin da tempi lontanissimi ha curato moltissimo l'immagine storica di se stessa deputando a ciò anche persone di grande competenza non solo ma di provata obbedienza nella descrizione dei fatti storici e allora dire che la Cina ha diverse province con storie tra di loro ben articolate si procede a entrare veramente in quella che è la Cina la cartina intanto ci fornisce visivamente alcune altre approssimazioni vedete colori diversi le parti diciamo così esterne sono quelle che hanno un diciamo una legislazione interna cinese speciale poi ci sono quelle che hanno il colore più vasto nella parte centrale che sono quelle che sono considerate a regime ordinario statale come province poi ci sono delle chiazze granata al centro e poi al nord nella zona di di Pechino di Tianjin che indicano come Shanghai che si vede di lato lo vedete qui Shanghai e sono delle città come anche questa l'area più vasta sono delle città chiamiamole così città metropolitane a regime speciale come se fossero una specie di stato nello stato Don Ermis mi perdoni ci chiedono se si può ingrandire l'immagine cioè se può farla tutto schermo Ecco perfetto non viene più grande però è più lì sì sì benissimo detto questo semplicemente come prima approssimazione figuriamoci bisogna poi dire però che di recente la Cina come si sa ha acquisito il diritto ad appropriarsi di quelle che erano le ultime aree coloniali vuole dire Macao e Hong Kong le condizioni con cui questo sta avvenendo e avvenuto avvenne sono piuttosto problematiche poiché sembra abbastanza evidente che nella Cina la assunzione garantita dovevano essere territori ritornanti nella Cina avviene con una accelerazione di omogeneizzazione rispetto a quella che è la legge interna della Cina che scompagina le tradizioni di queste nuove aree di Hong Kong e di Macao su Taiwan sappiamo che ci sta un contenzione a livello internazionale per cui la Cina dà per scontato che Taiwan sia la Cina mentre invece Taiwan non accetta questa attribuzione finito questo ingresso di carattere diremmo storico geografico io passerei invece ad una immagine che ci introduce a livello diciamo più interpretativo della realtà cinese poiché oggi la Cina è un grande punto interrogativo per chi è non cinese ma anche per chi è cinese e questa immagine tratta da una sezione limitata della grande muraglia che è come sapete una delle meraviglie straordinarie dal punto di vista architettonico poi si può prestare però appunto a questa ricchezza di interpretazione che in qualche modo contrassegna come dicevo la Cina attuale intanto la muraglia fu almeno in qualche circostanza storica non solo difesa rispetto alle popolazioni del nord alle invasioni delle popolazioni e delle tribù del nord fuori dalla Cina quindi nella accezione tradizionale sono delle fortezze è un serpente di fortezze immenso sconfinato due volte lungo il viaggio da qui a Pechino che svolse il ruolo di contenimento naturalmente questa muraglia è stata costruita a lungo secoli di lavoro a secondo delle esigenze delle emergenze anche nella difesa questa è la prima accezione ma c'è un'altra accezione esse furono anche come si vede dal tracciato il percorso che le muraglie hanno al loro vertice sono delle strade anche e che vuol dire che la grande muraglia fu anche una grande via di comunicazione e in questa doppia già immagine della grande muraglia viene il volto, si comincia a profilare l'interrogativo il volto interrogativo vero a sé e per gli altri della Cina attuale la Cina che si apre ma anche la Cina che presenta elementi di ripiegamento su se stessa oppure di chiusura nel senso di uscire sì ma per non per amalgamarsi con ciò che sta all'esterno ma piuttosto per servirsi di ciò che la circonda ai fini di una soluzione dei problemi interni alla Cina senza coagularsi con l'esterno cioè tanto più diciamo urgente dal punto di vista dell'interpretazione generale della Cina siamo sempre sul generale beninteso ma non sul vuoto è tanto vero questo che in effetti si può lasciare come un simbolo quasi questa muraglia del destino della incombente sovranità della Cina sul mondo sarà una sovranità assorbente oppure una sovranità diciamo di imperiale rinnovata con capacità di essere non solo se stessa la Cina ma di sapersi coagulare con il mondo che la circonda un interrogativo che preme a non pochi in Cina venendo adesso ad altro discorso entriamo in una altra forma di muraglia può sembrare strano che lo si dica ma si deve tenere presente che per la Cina per il rapporto con la Cina il problema della scrittura è un problema vitale la Cina ha sviluppato nel corso dei millenni una scrittura che a differenza della gran parte delle lingue nel mondo almeno nella loro più recente evoluzione storica nella tradizione cinese la scrittura ha conservato la pittura mettiamola così in prima approssimazione la pittura dell'oggetto che dice ma non la pronuncia perciò si parla di scrittura pittografica prendiamo ad esempio questo pittogramma in cui si vede che a sinistra un piccolo schema che rappresenta l'uomo a braccia aperte che poi nel corso del tempo e questo è già un ideogramma storico si vede che prende la configurazione di due linee una discendente lunga e una discendente breve a sinistra e poi il modo con cui oggi si scrive questo ideogramma come si dipinge questa realtà che si deve dire vediamo che cosa è se voi seguite immaginativamente come è scritto questo ideogramma io adesso lo seguo con il cursore vedete che si può sintetizzare in due colpi di pennello così e l'altro così si parte da un colpo di pennello che ha densità piena e si diluisce dall'alto in basso si parte da un altro colpo di pennello dall'alto in basso che da lieve si accende allora qui già abbiamo una prima schermografia di che cosa significa la scrittura cinese il fondo è che la scrittura cinese è ideogrammatica e qualche volta pittografica nel senso che veramente proprio dipinge in sintesi l'oggetto che vuole dire e poi è concepita come una pittura effettivamente ci sono delle espressioni della scrittura cinese che fanno parte di vere e proprie esercitazioni artistiche dello scrivere la scrittura è un'arte e a volte per dirla in termini addirittura ancora provocatori si potrebbe dire che contava più il modo con cui si scriveva che non quel che si diceva per acquisire dignità culturale una battuta evidentemente polemica nei confronti di Mao era precisamente che era un ottimo calligrafo ma un pessimo pensatore questo naturalmente lo dicono i suoi avversari politici guardate ad esempio adesso come si scrive un ideogramma complesso già che indica l'amore seguite con l'occhio il colpo di pennello in successione uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci voi avete qui nello stesso tempo un ideogramma e poi avete anche la visualizzazione del come si scrive quell'ideogramma tant'è che per poter trovare poi le parole in un vocabolario cinese naturalmente si va per le spicce su questo bisogna sempre calcolare un ideogramma se è un ideogramma semplice in cui quel che è scritto è una delle componenti fisse che ha un valore autonomo ma si può combinare anche con le altre esiste un indice di queste componenti di base che sono base per costruire scritture più complesse di idee e allora il calcolo che si fa è la componente di base quanto i colpi di pennello ha poi dopo calcolo quanto i colpi di pennello ha ciò che si è aggiunto come esplicitazione ulteriore dell'ideogramma e io partendo dalla base dei colpi di pennello dell'ideogramma della radice più l'aggiunta a colpo d'occhio e i cinesi lo sanno evidentemente fare per lunga esperienza direi di reazione quasi automatica capisco che quello dei tre colpi di pennello è combinato con otto colpi di pennello tac mi dice la pagina io vado alla pagina e lì trovo la pronuncia scritta questa volta non più in caratteri cinesi ma in ciò che a oggi, a tutt'oggi è diventato ormai un obbligo fisso nella scrittura cinese che costringe, obbliga, non più semplicemente consiglio ma obbliga a trascrivere la lingua fonetica la lingua, scusatemi, la lingua pittorica cinese ideogrammatica cinese a trascriverla in termini di alfabeto chiamiamolo così occidentale o più in senso generico alfabeto fonetico per cui oggi uno studente cinese riesce benissimo a scrivervi la pronuncia di quell'ideogramma e voi gliela potete chiedere con una richiesta che in cinese su una pin dimmi la scrittura fonetica e lui te la scrive abituato nella scuola a trascrivere in caratteri fonetici tutti gli ideogrammi cinesi con un piccolo accorgimento cioè puoi trascrivere con consonanti e vocali il suono del pittogramma cinese ma devi tenere conto che questo suono ha un additivo specifico in più le vocali hanno quattro toni nell'attuale lingua ufficialmente riconosciuta come nazionale dalla Cina ha quattro toni primo tono, secondo tono, terzo tono, quarto tono perciò se io dico o se io dico o questo non ha nessun senso in cinese se dico o con un tono ha un senso se dico con un altro tono ne ha un altro e un altro ancora per il terzo e un altro per il quarto io posso dire ma che è un primo tono ma posso dire ma che è un terzo tono posso dire ma che è un secondo tono posso dire ma che è un quarto tono e a seconda del tono che do a quella vocale cambia il significato e la corrispondenza a diversi pittogrammi della lingua cinese vi chiedo scusa di questo soggiorno chiamiamolo così sulla lingua perché questo costituisce vero la grande muraglia la grande muraglia della Cina chi vuole imparare la lingua cinese io peraltro lo so pochissimo chi vuole imparare la lingua cinese deve sapere che va incontro ad una fatica veramente impegnativa e questo spiega anche perché è così intenso l'apprendimento nei primi anni della scuola cinese proprio sulla grafia qui ad esempio vedete in sintesi il nome specifico che prende ogni tipo di tratto di pennello se vado da ecco vi do queste due regole generali da destra a sinistra dall'alto in basso questi sono due movimenti fondamentali guardate là dove c'è scritto vedete da sinistra a destra poi c'è il tocco che stacca il pennello quest'altro è un punto forte che si spegne sempre da destra a sinistra l'altro è dall'alto in basso ecco dall'alto in basso spegnendosi nell'intensità poi c'è un discendente che si finisce a punta e poi c'è un discendente che semplicemente va a esaurimento poi c'è un discendente che invece si accende poi dall'alto in basso un altro che a spunto rapido si spegne e un altro che è semplicemente un puntino lasciato dal pennello e ciascuno di questi colpi di pennello ha un nome per cui quando nelle scuole elementari si studia la lingua cinese si dice sempre mentre uno scrive come si chiama quella parte di ciò che sta adoperando nel pennello come si chiama ha un suo nome specifico chiudiamo e chiedo scusa di questo come dicevo prima soggiorno sulla lingua perché capita di rado di poterne parlare ma è uno dei motivi per cui ecco si avverte che il rapporto con la Cina ha una difficoltà nella comunicazione aggiuntiva in più che è proprio dato dal fatto che la lingua è una grande muraglia che distingue e separa la Cina dal resto del mondo a partire dallo strumento comunicativo per eccellenza che è la parola e lo scritto venendo adesso ad altre considerazioni vi faccio ancora vedere se eventualmente un piccolo esempio di ancora legato alle forme di scrittura vediamo un po' se si riesce a prendere bene mi pare proprio di sì sta emergendo eccolo qua vedete qui ci sono una serie di ideogrammi il primo che vedete lì su cui sta passando il cursore è quella parola che abbiamo visto come prima forma di ideogrammi due colpi di pennello dall'alto in basso da sinistra a destra dall'alto in basso da sinistra a destra questi due colpi di pennello che fanno sì che questo sia nello stesso tempo un ideogramma che ha un'idea ma è anche uno degli ideogrammi semplici che fanno sostegno a dati più complessi sulla loro base di radice questo è Ren i cinesi non pronunciano la R quando vogliono imparare la lingua con la lingua straniera che abbia la R qui sono un po' di problemi perché un conto è la R inglese un conto è la R italiana un conto è la R ciecoslovacca eccetera la lingua come prendiamo la nostra R e con la vibrazione della parte anteriore della lingua bene i cinesi non hanno questa vibrazione Ren per cui se vogliono riuscire a pronunciare loro una lingua come la nostra non so per esempio prendere loro diranno per approssimazione per un bel po' di tempo plendere plendele plendele metteranno la L al posto della R poi però se si ingegnano e testardamente continuano dopo circa un anno e mezzo la R comincia a spuntare devono proprio ricostruire una specie di muscolo nella vibrazione a noi così connaturale e semplice che è la R che è un suono ardito dal punto di vista fonetico vorrei ancora aggiungere su questo terreno della fonesi che noi nelle nostre lingue occidentali chiamiamole di un fascio unico così nelle nostre lingue occidentali abbiamo avuto una transizione a lingue che scrivevano i suoni attorno a circa si dice 700-800 a.C. quando la lingua culturalmente stradominante di allora che era l'Egizio lingua anche quella ideogrammatica lasciò perplessi mettiamolo in questi termini una parte del bacino orientale del Mediterraneo specificamente la Fenicia che era molto interessata ai commerci sul mar Mediterraneo per la sua complessità imparare una lingua ideogrammatica come quella dell'Egitto era un'impresa esattamente paragonabile a quella del cinese però alcuni nella Fenicia con spirito pragmatico ebbero l'intuizione noi non abbiamo la documentazione abbiamo solo l'esito ebbe l'intuizione non si sa come non si sa quando esattamente di avvertire che mentre gli ideogrammi erano sconfinati quanti erano gli oggetti che andavano semplificando invece invece i suoni per una vastità così grande di oggetti mille duemila tremila oggetti quanti mai fossero gli ideogrammi ebbe invece i suoni per tutte queste variabilissime quantità di parole erano soltanto da 20 a 30 che si ripetevano in varie combinazioni quindi fecero la scelta tecnologicamente straordinaria paragonabile alle grandi svolte che imponiamo recenti nostre tecnologiche e quant'altro di rinunciare a dipingere l'oggetto sia pure semplificando con qualche astrazione eccetera eccetera e a prendere solo il suono con cui quell'oggetto veniva designato e così si passò dalle lingue ideogrammatiche alle lingue fonetiche quelle che scrivono che cosa è andato perso nelle lingue ideogrammatiche cinese il suono che l'abbiamo già visto che cosa è andato perso nelle lingue fonetiche l'idea tu quando leggi il cinese sia pure con imprese molto impeditive dal punto di vista ermeneutico quando tu leggi il cinese tu leggi l'idea di una cosa non il suono quindi tu entri in un certo senso entri o diciamo puoi entrare nello spirito nella mentalità con cui tu vedi quella cosa lì ciò che invece è andato smarrito nelle lingue fonetiche che pigliano solo il suono ma non ti dicono l'idea che tu hai in quel momento storico in cui pronunci quella cosa di quella cosa lasciamo adesso perdere vi chiedo scusa di questa lunga traiettoria vediamo di catturare adesso qualche altro angolo di visuale che ci consente di proseguire questo viaggio interno alla Cina possibilmente dilatandolo di volta in volta su dimensioni nuove di percezione della sua complessità attraente complessità noi diciamo intrigante complessità allora vediamo ad esempio a qualche altra immagine che ci possa aiutare prendiamo un aspetto apparentemente solo visivo un po' sconcertante per certi versi questo ritratto uno abbastanza noto naturalmente è una pittura fantastica immaginativa di Confucio una prima cosa che può sbalordire il diciamo il lettore e l'occidentale è che il canone di bellezza è molto diverso ma anche se non vogliamo sottolineare la bellezza diciamo il canone della prestanza fisica o se volete della idealizzazione del personaggio poiché naturalmente Confucio se mai avremo tempo stasera dove vi dirò qualcosa è fortemente idealizzato nella sua funzione storica e di pensatore qui è presentato lo vedete corposamente dilatato e poi con tratti fisionomici del viso che non sono esattamente corrispondenti a quelli che noi vedremmo legati a concetti sublimi come ad esempio pensiero saggezza bellezza riferimento ideale e quant'altro maestro soprattutto maestro eppure voi se andrete anche comunemente in qualche ristorante cinese potrete se si potrà ritornare in Cina e dare uno sguardo diciamo all'ambiente nella sua naturale ricchezza e varietà si troveranno delle raffigurazioni che da questo punto di vista sono problematiche standard a prima percezione eccolo qua ad esempio una immagine che potrebbe essere non necessariamente di Buddha ma magari anche di Buddha o di un seguace di Buddha un maestro particolare di un'area particolare di un tempo particolare su cui si è costruito un effigio voi vedrete che qui l'immagine della grandezza e della sublimità della reverenza e della saggezza sono identificate con una plenitudine anche corporea che fa da contrasto rispetto ai nostri primordiali istintivi gusti nel definire le medesime cose non è l'unica divergenza diciamo quindi fianco mentre siamo sulla ritratistica e su questo aspetto superficiale apparentemente superficiale vi faccio vedere una delle primissime raffigurazioni della Madonna in cinese ecco questo naturalmente se voi andrete nelle comunità cattolici cinesi e su altre cose in quelle protestanti perché sapete che l'iconografia nella tradizione protestante è ridotta al minimo ma se voi andrete potrete trovare semplicemente una presenza iconografica che equivale più o meno a quella che si trova fino a 800 inizio del 900 in Europa il Sacro Cuore la Sacra Famiglia il Sacro Cuore di Gesù il Sacro Cuore di Maria il Buon Pastore con effigi evidentemente tipiche del personaggio che è stato pensato nell'Occidente per lo più in un'epoca come quella della fine dell'Ottocento dove anche furoreggiava il 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 tardo gotico non scusate il tardo gotico il neo gotico dell'Ottocento vedete questa è una preziosissima per altri versi fotografia di un'importante chiesa da poco forse si spera restituita ai ai cattolici dopo la rivoluzione culturale vedete il neo gotico quello che ha imperversato anche in tutto l'Occidente fino all'Ottocento inizio del 900 e trappiantato tal quale in Cina come nelle immagini di cui prima vi parlavo ma al sesto della della chiesa fa subito venire in mente un altro piccolo particolare che per il momento rimane in sospesa poi lo riprendiamo la rivoluzione culturale è stata una tremenda forma di di espugnazione della tradizione religiosa e queste chiese vennero mantenute nella loro struttura fondante per diventare depositi e quant'altro mai stalle e tutto il resto vedete comunque che qui abbiamo una presenza del cattolicesimo in Cina che non si è inculturato nell'architettura cinese o nella visione dell'arte in Cina ma semplicemente ha trapiantato tal quale lo stile che c'era in occidente là in varie parti della Cina ritornando alla immagine che citavo prima questo ritratto di Maria in stile cinese voi vedete che ci sono parecchie cose che hanno una loro tipizzazione cinese intanto è sempre molto bello quando si vede il volto della Madonna in questo caso che è portato a essere una cinese esattamente come quando si va in Africa si vede una Madonna africana o quando si vanno sulle Ande si vede una Madonna Inca e via discorrendo questo è un segnale molto molto significativo e molto importante non vale solo per la Cina ma proiezionalmente si potrebbe applicare nella storia del cristianesimo lungo il tempo come la formula degli ortodossi per ricordare di nuovo gli ortodossi di cui si è parlato la volta precedente gli ortodossi si collegano alla tradizione bizantina con questo momento di diversificazione mantenendo la stessa tradizione ma acquisendo un'autonoma identità quando osarono adottere il verbo evidentemente in senso metaforico quando osarono dipingere il Cristo coi tratti connotati di uno slavo e che voleva dire noi ormai il Vangelo riusciamo a dirlo con la nostra tradizione qui si potrebbe dire che questo ritratto molto semplice della Madonna cinese con il suo far apparire la Madonna con i tratti cinesi manda questo segnale noi siamo in grado di dire il cristianesimo da cinesi se noi prendiamo ad esempio ora questo ritratto più sofisticato vediamo che addirittura qui la Madonna e il bambino sono ritratti con diciamo con la solennità non con la semplicità del ritratto precedente ma con la solennità richiesta da chi ha dipinto ciò in un'immagine molto diffusa attraverso un'altra idea l'idea del trasmettere la grandezza di Maria ti diranno beata a tutte le generazioni e per formalizzare questa grandezza si è pensato di dare alla Madonna con i tratti dell'imperatrice della grande tradizione imperiale cinese e qui allora sempre entrando poco per volta dentro il tutto si potrebbe adesso entrare attraverso questa facciamo vedere un'ulteriore immagine di Confucio anche sempre con le osservazioni valide per l'immagine precedente ecco ora entriamo nel alcune delle caratteristiche che contrassegnano la mentalità di fondo della Cina che poi si esprime in politica in un certo modo si esprime anche nella visione del commercio in un certo modo e si esprime nel modo di concepire la vita privata i rapporti sociali e pubblici e perché no il partito allora una prima caratteristica che voglio mettere in evidenza la disummo narrativamente da ciò che io ho sperimentato un sacco di volte mi è capitato negli ultimi 15-20 anni di andare in Cina regolarmente pressoché ogni anno invitato da professore di università cinese invitato a tenere o questo o quell'altro argomento di carattere di storia del cristianesimo che loro su mia proposta di alcuni titoli avevano indicato come scelta preferenziale per dire alcuni argomenti trattati in alcune università ad esempio può sembrare addirittura sorprendente ad un ascoltatore occidentale cioè andare a commentare le confessioni di Sant'Agostino dimmi tu in Cina naturalmente loro chiedevano né io sarei stato capace di parlare di questi argomenti in Cina figuriamoci richiede una grandissima competenza però volevano esplicitamente che fossi inglese parlante come mi diceva una volta uno studente e un prof diceva no 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 lei parli parli per l'inglese perché il cinese lo sappiamo già voleva dire che c'era in quel periodo mi riferisco nei primi anni in cui andavo a metà degli anni delle primi dieci anni del terzo millennio fin verso 13 14 del terzo millennio poi dopo la preparazione e l'avvento di Xi Jinping la musica è un po' cambiata diciamo che c'era un grandissimo desiderio di ascoltare voci che venivano da fuori della Cina che dicessero affrontassero faccio per dire non era così qualsiasi argomento purché consentissero un contatto andando oltre quelle mura per conoscere il modo di vedere diverso fuori la Cina e l'aspetto della storia del cristianesimo era tra i più tra i più fascinanti e più richiesti naturalmente sotto il profilo dell'informazione chiamiamola così culturale ma se a te chiedono come hanno chiesto a me alcune volte di parlare di come il cristianesimo si è rapportato con l'impero romano tu puoi benissimo supporre che ti hanno chiesto questo perché allora interessa il modo in cui il cristianesimo si rapporta con l'attuale loro impero ma se tu esponevi correttamente con un'informazione rigorosa e con attenzione alle sfumature che sono molte per quel periodo così complesso in cui i cristiani erano per dirle in breve perseguitati e fuori esclusi da un pieno riconoscimento civile bisogna ammettere che è una presentazione assai stimolante non solo per la Cina ma direi alcune volte forse addirittura prima qui per noi tu svolgevi benissimo quel compito non avevi nessun altro secondo guai ad avere un secondo intento di richiesta di informazione sulla situazione o di volere parlare di una cosa per intenderne un'altra ad esempio parlare di questo per fare dico tra virgolette la propaganda per le più convinzioni no 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 ma se tu rimanevi come era corretto fare rimanevi e rimani fedele nel rispondere onestamente puoi dire cose che sono che sono un pugno nello stomaco rispetto all'attuale sistema cinese ma se fa parte dell'informazione richiesta non troverai nessuna difficoltà anzi il discorso diventerà sciolto e libero devo dirvi che operare in senso contrario invece mentre qui potrebbe suonare a qualcuno come un atto di coraggio nel dire le proprie idee rispetto a certi argomenti sapendo che questo potrebbe costruire uno strumento critico rispetto a questi ragionamenti dimenticano una piccola intermedia circostanza che basta enunciare valida a suo tempo per l'Unione Sovietica e oggi per la Cina e i regimi amali che se tu sgarli tu sei straniero e esci ma chi va in prigione è chi ti ha invitato questa attenzione secondo me quando viene rispettata consente un discorso assolutamente comunicativo e franco senza semmai loro o qualcuno di loro vuole spingere più in là chiedendoti il tuo parere su certe cose deve essere chiesto il parere non devi strategicamente impostarlo tu cioè usare strumentalmente argomenti di carattere culturale e religioso per fini che ti proponi tu scopi tuoi no devi stare a vedere un atto di è un atto di rispetto reciproco che in Cina almeno fino all'avvento di Xi Jinping era assolutamente assolutamente fecondo nelle relazioni ed è stava anche in alcuni casi l'ho potuto riscontrare un interesse nella comunicazione veramente altissimo perché vedevano che tu non li usavi per secondi figli ma semplicemente rispettavi in ciò che ti avevano chiesto chiuso e basta allora dunque tu entravi dunque nell'università insegnavi ci pervi insegnare il patto era questo il viaggio lo pagavi tu là eri assolutamente trattato come ospite a tutti gli effetti in modo eccellentissimo sempre con qualche studente o anche qualche prop disponibile per farti conoscere l'ambiente per accompagnarti per chiedere precisazioni documentazione bibliografia ci tenevano molto a feste sugli argomenti trattati e così via e tu facevi la vita piena di un college dell'università occorre dire che in Cina come per il resto avviene in quasi tutto l'estrò oriente il sistema universitario io parlo di questo il sistema universitario è a college quindi l'università è un luogo di vita totale i professori hanno una loro sezione in ampio territorio in cui vivono con la loro famiglia gli studenti vivono in diciamo in collegi interni con piuttosto rigida disciplina e via discorrendo tu sei a tutti gli effetti partecipe della vita del college e puoi chiedere cose che riguardano l'informazione l'accompagnamento puoi chiedere qualunque cosa serva che dimostri che tu sei interessato alla realtà in cui vivi su questo non provo la disponibilità è totale tu sei dentro vivi in un hotel che è fatto per ospiti non necessariamente stranieri ma anche ospiti da altre università e lì tu sei in piena vita dell'alcolici attualmente bisogna dire non so adesso come sarà dopo il virus poiché le relazioni non sono sciolte con la Cina non conviene oggi aprire un aggancio come si è me lo dicono anche gli amici miei di laggiù quelli che devono indagare sull'ambiente quale università vorrebbe casomai questo quell'altro argomento e così via oggi passare un tempo come ti viene richiesto addirittura certamente di 15 giorni in cautela quando sei arrivato là in aereo ti spegne qualunque senso della tua presenza là perché metà e oltre del tempo in cui tu dovresti operare è passato in quarantena questo non ha senso credo che col passare dei mesi queste difficoltà logistiche si andranno sciogliendo io sono in attesa appunto che si ripristini l'aggancio per accordare argomenti e poi loro ti dicono dove e quando tu arrivi sarai atteso ci sarà lo studente o l'assistente dell'università della cattedra che ti ha invitato che ti aspettano all'aeroporto o alla stazione eccetera e ti portano ti accompagnano ti assegnano all'onso ti dicono l'orario degli incontri e così via altro ingresso la Cina ha detta di qualche illustre anche pensatore del nostro occidente ne cito uno Russell la Cina è irreligiosa o se vogliamo è senza religione religione non c'è non ha senso non conta non ha in plus beh questa è una frase che a mio modo di vedere va posta come espressione di un'opinione a cui vanno aggiunti i due punti e poi si aggiunge vediamo io ritengo invece che la Cina sia un paese in cui c'è una floridissima tradizione magari discutibile magari non equiparabile al modo con cui noi concepiamo la vita religiosa qui che andrebbe sotto l'insegna fulgida a suo tempo anche nella nostra parte del mondo che si chiama un termine che oggi ha assunto un significato che non è probabilmente preciso ma dovrebbe essere lasciato al suo significato originale religione civile che naturalmente non vuol dire che esista una religione incivile ma vuol dire che la religione coincide con la osservanza di alcune regole collettive che possono essere accompagnate anche da cerimonie specifiche di carattere religioso che comunque hanno a che vedere con diciamo la convivenza civile e con il potere politico della società quindi è una religione che si configura come tra virgolette religione della convivenza sociale sotto regole determinate che vanno rispettate ecco qui che compare la terminologia che lascia anche intravedere da se stessa il significato profondo religioso questa che si chiama la volontà del cielo adesso qui non è possibile fare un esercizio di scrittura in diretta ma qui proprio si vedrebbe chiaro tondo anche guardando lassù dove c'è seguite il mio cursore ancora una volta torniamo sull'ideogramma uomo un colpo di pennello dall'alto in basso un secondo colpo di pennello dall'alto in basso se adesso seguitemi immaginativamente se io adesso con il cursore ho fatto traccio traccio una linea qui qui dove c'è chiamiamola così dove c'è la pancia di questa sintesi di uomo ottengo un altro ideogramma il colpo di pennello seguitemi ancora rapidamente da qui a lì con questa linea a quell'altezza io ho un altro ideogramma è una pronuncia diversa l'ideogramma uomo si punta ren secondo tono quell'altro ideogramma che io ho fatto intravedere visivamente così vuol dire grande vedete che è un pittogramma ancora perché indica un piano sopra l'uomo e si pronuncia quell'ideogramma nuovo quarto tono ta che vuol dire grande grandezza se io adesso salendo ancora più dove si sarebbe la testa immaginativamente evidentemente traccio un altro tratto di pennello come quello sotto quello è tien primo tono che vuol dire cielo allora ecco il pittogramma che dice anche l'idea religiosa il cielo cioè è un piano sopra la grandezza umana indica quindi una presenza che coincide con l'ordine voluto celeste della realtà cioè è una legge noi diremmo con termini nostro occidentali è una legge divino naturale che regge la realtà e noi abbiamo questo nell'ideogramma che sentiamo ripetere spesso evidentemente non con la pronuncia dei toni alla cinese ma della televisione quando fanno vedere un servizio da Pechino quasi sempre compare la piazza Tiananmen ecco adesso la dico senza i toni Tiananmen questa è la piazza Tiananmen Tian vuol dire cielo An vuol dire pace lasciamo stare come scritto e men vuol dire porto adesso procediamo dal fondo verso l'inizio della parola Tiananmen vuol dire men vuol dire porta Han vuol dire pace Tian vuol dire cielo la piazza Tiananmen cominciando adesso di nuovo da sinistra da destra cioè vuol dire porta della pace celeste ecco questo è il titolo della piazza principale di Pechino è là dove c'è la sede del potere oggi anche quella del partito comunista non proprio come esercizio del potere ma simbolicamente la piazza che introduce la città imperiana la città proibita e così via è quella in cui si garantiva col potere la pace l'armonia l'unità della nazione cinese e questo veniva concepito come obbediente all'ordine celeste non a caso l'imperatore era chiamato figlio del cielo per cielo sempre c'è la parola tian tian figlio del cielo dunque io dovessi rispondere a quell'interrogativo che mi sono posto citando Rasser quale è decisamente scettico dice i cinesi nel luogo della non religione non sono religione io direi che la religione cinese è molto legata alla osservanza e all'ordine della vita della vita del singolo cittadino e dell'insieme dei cittadini nella società la legge che va osservata nel costruire la società è voluta dal cielo questo cielo deve essere anche non solo riconosciuto ma deve essere nella tradizione cinese profonda deve essere venerato deve essere in qualche modo tenuto amico deve essere in qualche modo riconosciuto come normativo per le decisioni più importanti che bisognerà cercare di conoscere attraverso auspici di varia natura su questo terreno la Cina è uno sforgorio di indagini sulla volontà del cielo e tutto ciò tutto ciò fa sì che ad esempio nella tradizione imperiale classica ci fosse un momento particolare riservato specificamente all'imperatore nel momento iniziale del raccolto il momento della primavera l'imperatore si recava in un certo tempio e lì svolgeva sacrifici propiziatori verso il cielo per la felice annata dal punto di vista della semina e della raccolta poi c'era un momento in cui si godevano i frutti di questa semina e di questa raccolta e l'imperatore l'imperatore svolgeva la cerimonia del ringraziamento e poteva lui solo svolgerla come rappresentante della collettività e qui avete il tempio in cui ciò avveniva eccolo ecco uno splendido tempio in Pecchino eccetera dunque sulla religiosità dei cinesi io direi piuttosto questo che sono molto circospetti nel adottare io direi questo nell'adottare qualcosa che non sia assorto dalla Cina e in qualche modo non abbia non si sia trasformato in cinese questo si deve dire ad esempio per il buddismo che ha la sua massima espansione dal punto di vista numerico in Cina si calcola che all'incirca i buddhisti in Cina rappresentano siano rappresentati da una cifra approssimativa di 300 milioni di persone altre oppure anche il taoismo un'altra delle grandi esperienze spirituali che è decisamente diversificato rispetto al confucenese ma di questo dirò subito dopo e poi le religioni che invece sono in condizione subiudice incerte sono per il momento accolte sotto regolamento in Cina ma continuamente sono sottoposte al rischio di essere qualificati come straniere e quindi di essere estranei alla tradizione cinese perciò anche in ogni momento perseguibile tra queste categorie c'è appunto il cristianesimo a sua volta regolato da due diversi ordinamenti da parte dello Stato l'ufficio degli affari religiosi per i cattolici e per i protestanti protestanti pur essendo diversificati moltissimo nelle divisioni che li caratterizzano in giro per il mondo dal governo cinese sono assemblati in un'unica voce protestanti a loro vengono imposte tre norme fondamentali l'autosostentamento eccetera eccetera e così i cattolici sono sottoposti anche loro ad alcune regole recentemente ma di questo fatemi casomai domanda dopo recentemente si è tentato una cosa molto molto rara nella traduzione cinese non unica si è tentato un accordo tra la chiesa cattolica e il governo cinese per le nomine dei vescovi e poi in prova semmai si possa fare qualcosa di più che ripeto costituisce un unicum nella traduzione cinese poiché la Cina qui di nuovo il concetto di straniero riconosce come partner al suo interno una componente che ha il suo centro di riferimento fuori dalla Cina un passo un po' inedito diciamo così nella storia qualcosa di estraneo alla Cina a cui viene riconosciuto in Cina una sua identità avendo il centro di riferimento fuori dalla Cina lo stesso vale anche per i protestanti ma i protestanti non hanno questo specifico appiglio di accordo che poi non è neanche un accordo è semplicemente una bozza sperimentale di relazione niente di più provisional agreement cioè provvisorio accordo niente di più non è meno che meno un concordato meno che meno un'intesa meno che meno un accordo in senso proprio è semplicemente un'apertura di relazione niente di più su un punto specifico e su altri che ovviamente anche ero che non sono stati finora specificati si potrebbe dire a questo punto qualcosa di confusio in parte già il commento all'immagine ha prefigurato un aspetto dicevo che è sconcertante per noi che saggezza ma essere maestro sia configurato visivamente fisicamente in questo momento ma questa è solo un'osservazione di carattere superficiale invece il confucianesimo merita un po' di attenzione e vi farò vedere subito adesso poi una presentazione del confucianesimo che mi hanno regalato alcuni studenti cinesi quella che loro ricevono quando sono nelle medie superiori così viene loro presentato e vi farò vedere il confucianesimo evidentemente il documento è in inglese non è con scritto pronunciato in cinese ma con sottoscritte in inglese ciò che io volevo però che si avvertisse pur non capendo che si facesse attenzione al modo epico con cui si narrano le cose che si ritengono di riferimento importante serio e diciamo programmatiche da rispettare sentirete come viene presentato con quali toni di voce viene presentata la successione di varie fasi nella vita di confucio lui confucio più o meno contemporaneo se vogliamo fare un riferimento alla tradizione biblica più o meno contemporaneo all'epoca di Isaia è un personaggio che alcune volte viene definito nei dibattiti che si sentono qui in occidente definiti in termini non propri ad esempio capito di sentire dire è vero domanda domanda che qualche volta si sente è vero che confucio ha fondato una religione no confucio non ha fondato alcuna religione confucio è tra virgolette confuciano precisamente perché perché ha messo ordine nella tradizione religiosa dei secoli precedenti che aveva una magma rappresentava una magma ma piuttosto confuso di riti eccetera eccetera che lui ha pensato di riordinare è un forse un riformatore della tradizione e dopo aver riformato la tradizione è diventato a sua volta un termine della tradizione è il rappresentante della di una componente importante della tradizione spirituale etica del mondo cinese il il secondo tratto caratteristico di confucio è che poi però diventando affermato rappresentante di una certa visione della realtà che poi subito adesso definirò e lungo il tempo ha subito molte vicissitudini di ascese del suo prestigio nella tradizione poi crisi riproporsi di riforme o riprese del confucianesimo per cui c'è una storia continua di neo neo neoconfucianesimo fino ad oggi comunque comunque è sempre stato specialmente nell'ultimo periodo un punto di riferimento fondamentale anche per la carriera politica infatti a tempi determinati in tutta la Cina l'impero l'imperatore indiceva dei concorsi per selezionare la sua classe dirigente che avvenivano tutti erano tutte domande sui testi classici confuciani uno potrebbe dire ma si dava un esame su argomenti di carattere etico spirituale che esami di stato sono questi se uno poi deve diventare ma il problema era è da leggersi in un altro modo come del retto sarebbe stato lo stesso per l'Egitto con un medesimo tipo di lingua il possedere la lingua cinese era un termine così prezioso di conoscenza che dava un presupposto credibile a chi avesse mai dovuto assolvere con un pianto compito e lo stesso imperatore aveva comune dei compiti suoi principali di scrivere i suoi decreti in perfetto cinese cioè dire la capacità di possedere quest'arte in qualche modo dava una garanzia noi lo definiremo con i termini nostri occidentali della tradizione laico-occidentale diremmo la cultura di base la cultura di base era garantita e anche e anche il potere che ne derivava perché tu il potere lo dovevi esprimere in formule che fossero definite precise non oggetto di equilici sentite ora come viene presentato con l'enfasi dovuta la figura di Confucius vi faccio vedere questo video è il video che passa nelle scuole diciamo le high schools nelle scuole medie superiori in Ciro grazie a tutti Grazie a tutti. 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 a tutti. e a tutti. e a tutti. a chiuderne una di tutti. Grazie a 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 tutti.